Grande prestazione per l'AMMBC Servizi che conquista per la prima volta in questa stagione due vittorie consecutive regolando la pratica Sestri con il punteggio di 81-57. Abbiamo approcciato benissimo la partita ma oggi si è visto, abbiamo avuto la conferma che tutti i ragazzi sono migliorati, tutti insieme sono migliorati, abbiamo messo su una difesa veramente importante in cui tutti ci aiutiamo, dobbiamo continuare così. Partenza determinata degli Amaranto che provano subito ad accelerare il ritmo di gara. I punti di toia Rossi e Zocca abbinati alla difesa sui lunghi avversari valgono il primo mini a lungo che porta il quintetto a retino a chiudere il primo quarto in vantaggio 20-11. La reazione degli ospiti è perentoria, nel primo minuto e mezzo del secondo parziale Sestri piazza un 8-1 che riporta a stretto contatto gli ospiti. Arezzo non riesce ad essere fluido come ad inizio gara ma ha il merito di tenere qualche lunghezza di vantaggio nonostante cinque tiri liberi sbagliati. Rossi e Zocca riportano poi l'Ame MBC Servizi all'intervallo in vantaggio. Dopo la pausa lunga in campo rientra una sba letteralmente trasformata, la difesa retina è aggressiva e toglie facili soluzioni agli avversari. I ragazzi di coach evangelisti non sono sazi e continuano con la stessa intensità mettendo in difficoltà Sestri che segna con il contagocce. L'Arezzo tocca anche il più 28 prima di chiudere a fine terzo quarto sul 63-38. Negli ultimi dieci minuti l'Ame MBC Servizi amministra con attenzione il vantaggio coinvolgendo nelle rotazioni anche Vagnuzzi che risponde alla chiamata con un'ottima prestazione. Siamo partiti da una base di ragazzi giovani che possibilmente non avevano mai fatto i protagonisti e adesso si ritrovano a esserlo e c'è tantissimo piacere per Mirko Vagnuzzi che possibilmente poteva giocare anche di più in queste altre partite perché si sta allenando veramente bene ed è cresciuto tantissimo e bravi a tutti. Il finale di 81-57 premia l'ottima prestazione della SBA adesso attesa dalla trasferta di Quarata che ha appena vinto in questo turno sul campo di Castelfiorentino raggiungendo quota 12 in classifica. Noi l'affrontiamo adesso a viso aperto, non dobbiamo avere rispetto sicuramente perché sono esperti ed è un campo veramente difficile ma adesso penso abbiamo preso convinzione nei nostri mezzi e abbiamo anche noi le nostre sicurezze.